Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce, dicendo, la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi, signor mio tu lo sai, ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.